Alla libreria 2000 riprende il ciclo di eventi incontri d'autore, questa sera il primo ospite è Giulio Perrone che presenta il suo libro L'esatto contrario. Un noir atipico perché il protagonista non è un addetto ai lavori, quindi non è un poliziotto, non è un avvocato e neanche un magistrato. È un ragazzo aspirante giornalista che si trova coinvolto in una storia che viene dal passato, che lo tocca da vicino e che lo porta a condurre un'indagine un po' goffa e sconclusionata ma alla ricerca della verità. E come mai scegliere questo titolo, l'esatto contrario? Perché il protagonista in varie parti della storia si sente spesso l'esatto contrario di alcune delle persone che incontra, dei personaggi che lo contrastano o che lo aiutano, però lui molto spesso si sente in opposizione, si sente inadeguato per certi versi al mondo in cui si muove. In questo romanzo si parla anche di un amore che continua anche oltre la morte e che senso ha, che significato ha a parlarne in un periodo come il nostro dove l'amore viene un pochino sminuito dai giovani, un pochino trattato con superficialità? Ma effettivamente lui si muove in questa storia proprio da un sentimento, da un qualcosa che lo lega a una ragazza che tanti anni prima è stata uccisa, ma credo che probabilmente Riccardo, il protagonista, è un uomo d'altri tempi in questo senso. Però a volte quello che si sente, ci sono delle cose che accadono nella vita che ti segnano profondamente e quando vengono fuori te la cambiano, ti costringono a rimetterti in gioco e a dover ripensare un po' sia il tuo passato e anche il tuo futuro. Qual è stata l'ispirazione per questo libro? Ma è stata soprattutto la voglia appunto di raccontare un personaggio che vedo molto spesso nella nostra vita e nella nostra società, cioè qualcuno che vive un po' una sorta di precarietà esistenziale perché non ha realizzato molto di quello che sperava, né sul piano professionale né sul piano personale. Però a volte anche se tu decidi di tirarti indietro e di non essere protagonista, a volte è la vita che ti viene a cercare e ti costringe a metterti in gioco. E questo mi interessava capire, cioè che succede a quel punto ad una persona che pensa di vivere in un eterno presente ma che forse deve fare i conti anche col suo passato. Da Andrea per News24.city Davide Suriano